Buongiorno a Fettino Online, avvio positivo questa mattina per la borsa, abbiamo il Futsimib in questo momento che guadagna il 2,4% circa, intorno ai 17.280 punti, questo invece è il grafico del future, in 3 day sui 15 minuti, vedete siamo con i prezzi nella parte alta del canale moderatamente ribassista che parte dai massimi del 25 di marzo, questo canale potrebbe anche dimostrarsi un flag over, sia una figura di continuazione della tendenza positiva che era partita dal 23 di marzo, la conferma oltre alle 17,25, 17,50 nel corso della seduta di oggi, sarebbe un segnale pertanto positivo, perché ci permetterebbe di considerare ripreso l'up trend, ovviamente ci sarebbe poi da superare anche quello che è il lato alto di questa fase laterale, quindi vedete intorno ai 17.500 punti, c'è la parte alta della fascia all'interno della quale si muovono i prezzi ormai da un paio di settimane, quindi sopra 17,50 avremo un primo segnale di forza da confermare poi sopra 17,5, nel breve ovviamente già con le quotazioni attuali si possono tentare acquisti con un target a 17,5, dove potremmo andare in caso di superamento di la 17,5 il target è dato dalla proiezione dell'ampiezza della fascia, quindi di circa 3.000 punti, dal livello di rottura, quindi potremmo salire anche in area 20.500 se 17.500 venisse confermato come superamento in chiusura di seduta, questo è lo stesso grafico, ma con un orizzonte temporale più stretto, vedete si evidenzia il fatto che questo effettivamente potrebbe essere un flag, quindi questo canale anche se ha un'inclinazione moderatamente negativa è il presupposto per assistere a un rialzo anche abbastanza interessante. La situazione è simile anche per quello che riguarda il DAX, vedete anche nel caso del DAX possiamo identificare una fascia laterale, una più stretta che quella data dall'andamento delle ultime 4 giornate, in questo momento andiamo a guardare l'ultima quotazione, con il DAX siamo intorno ai 10.050 punti, la parte superiore della fascia coincide con i massimi del 25 di marzo a 10.000 e 135, 10.140, quindi sopra quei livelli verrebbe confermata la rottura di questo intervallo e come dicevamo questa fascia delle ultime sedute poi all'interno di una fascia più ampia che parte dai minimi di metà marzo e che ha un'ampiezza di 1.500 punti circa, quindi la possibilità di tornare intorno agli 11.500-11.600 punti al di sopra dei massimi del 25 di marzo sembrerebbe concreta. Andiamo adesso a guardare i titoli più interessanti per la seduta di oggi, questa è la tabella del Fuzzimib a pochi minuti fa organizzata in ordine decrescente di variazione percentuale sulla seduta odierna, vedete praticamente tutti i titoli hanno un andamento positivo, a parte di Assorio, Moncler e Ricordati che sono invece negativi, molto bene stanno facendo un po' tutti i comparti, non c'è un tema unico, vedete ci sono sia industriali, che banche, che titoli legati al petrolio che si stanno muovendo in forte rialzo oggi, quindi direi che è un rimbalzo generalizzato, questa ovviamente è una buona notizia, ci occuperemo in particolare dei primi 5 titoli di questa lista, quindi ci sono due titoli legati al petrolio, Eni e Saipem, guardiamo subito l'andamento del prezzo del greggio per capire quale potrebbe essere il destino di questo mercato, questo è il crude oil future su scala giornaliera, volevo farvi notare come è possibile ipotizzare che il movimento di ribasso visto nelle ultime settimane dai massimi dell'8 gennaio potrebbe anche considerarsi a questo punto terminato, vediamo perché, facciamo un piccolo passo indietro, prendiamo in considerazione la teoria delle onde di Elliott, i movimenti che si sviluppano in 5 segmenti quando sono orientati a ribasso, nella teoria idealmente hanno uno sviluppo di questo tipo, sono formati ovviamente come dicevamo da 5 segmenti, questi 5 segmenti dovrebbero essere legati da una proporzionalità ben precisa, se facciamo riferimento alla prima onda come unità di misura, possiamo dire che l'onda 3, quindi dopo l'onda 1 ovviamente abbiamo una onda 2 correttiva, seguita da una onda 3 ribassista, corretta a sua volta da una onda 4, che termina poi, tutta la nostra sequenza impulsiva termina con l'onda 5, noi possiamo in teoria dire che la onda 3 dovrebbe avere uno sviluppo che è pari all'onda 1 moltiplicata come ampiezza per 1 e 618 volte, che è uno dei rapporti di Fibonacci, mentre normalmente l'onda 5 è sempre una sequenza ideale, dovrebbe essere uguale all'onda 1, sempre in termini di ampiezza, andiamo a vedere che cos'è successo nel corso del recente passato, se noi ipotizziamo che questo sia stato, che il primo elemento ribassista sia stato l'onda 1, quindi diventa la nostra unità di misura per andare a verificare se i movimenti successivi hanno rispettato questa proporzionalità o meno, quindi calcoliamo l'ampiezza dell'onda 1, la proiettiamo dall'ipotetico massimo di onda 2 e vedete che effettivamente il punto di minimo toccato il 9 di marzo a 27,34 coincide più o meno con il 161,8% di ampiezza dell'onda 1, quindi saremmo nel caso in cui questo punto potremmo catalogarlo come momento di arrivo dell'onda 3, seguito come abbiamo visto da una correzione che sarebbe a questo punto da considerare l'onda 4, ora dobbiamo verificare se effettivamente quella che potrebbe a questo punto essere considerata l'onda 5 ha un'ampiezza paragonabile a quella di onda 1, quindi ritorniamo sulla nostra onda 1, ne calcoliamo ancora una volta l'ampiezza, la proiettiamo dal punto di massimo di onda 4 e vedete il minimo del 20 di marzo coincide praticamente in modo perfetto con l'ampiezza di onda 1, quindi potremmo avere rispettate le proporzioni che abbiamo visto suggerite dalla teoria, quindi questa sequenza in 5 segmenti rispecchia in maniera praticamente perfetta quello che è l'aspetto teorico di una sequenza impulsiva in 5 segmenti, ovviamente dopo una sequenza in 5 ci si può aspettare l'avvio di una correzione in 3 segmenti che ritraccia di solito tra 1 terzo e 2 terzi del movimento precedente, quindi ci possiamo aspettare un ritorno tra i 37 e i 48 dollari, molto spesso dopo una fase impulsiva come questa la correzione successiva ritraccia almeno fino all'area dove si era sviluppata, dove si era fermata l'onda 4, quindi almeno il 38,2% di ritracciamento, pertanto un movimento verso i 37 dollari sarebbe a questo punto possibile. Ovviamente poi bisognerebbe fare lo sforzo di valutare che cosa potrebbe essere stata questa sequenza impulsiva nell'ambito di tutto il movimento precedente, vediamo che nel corso degli ultimi mesi a partire dai massimi dell'ottobre del 2018 abbiamo visto una fase ribassista che si è sviluppata a partire da quei massimi caratterizzata da una prima parte decrescente, da una seconda parte sostanzialmente laterale e dal nostro movimento ribassista attuale, quello che abbiamo contato in 5 segmenti, siccome sappiamo che molto spesso le correzioni secondo sempre la teoria delle onde di Elliot si sviluppano in 3 segmenti potremmo e invariabilmente, indipendentemente dalla tipologia di correzione che andiamo ad analizzare, le correzioni sono composte da 3 segmenti che vengono identificati con le lettere dalla A alla C, quindi questa potrebbe essere la lettera A, questa la lettera B e questa la lettera C, una cosa che è comune a tutte le correzioni è che la onda C è composta da 5 onde a sua volta, quindi potremmo ipotizzare che questo movimento che abbiamo visto nell'ultima fase sia l'onda C di tutta questa grossa oscillazione che abbiamo visto dai massimi dell'ottobre del 2018, il che ci riporterebbe nell'ambito di una situazione di più ampio respiro, questo è il canale che contiene tutta la nostra fase correttiva, vedete l'onda 5 praticamente si sarebbe sviluppata al di fuori del canale, ma questo è abbastanza normale perché molto spesso l'onda 5 che poi sarebbe, questa qui sarebbe la 5 della onda C di tutta la correzione, l'onda C è estesa molto spesso rispetto all'onda A, quindi è normale che esca al di fuori del canale, in questo caso se questa fosse la situazione di lungo termine potrebbe voler dire che si è a questo punto con i minimi di marzo completato tutto il movimento correttivo che era partito a ottobre del 2018 e che adesso potrebbe esserci una fase di rimbalzo abbastanza accentuata, una conferma ovviamente in questo senso inizierebbe a esserci al di sopra di questa resistenza che è il massimo del 19 e del 20 di marzo a 27,80, 27,90, quindi quello potrebbe essere il primo target al quale puntare per il breve termine, però come vi ho detto oltre quei livelli ci sarebbe spazio per una fase di rimbalzo decisamente più estesa almeno fino ai 40 dollari, che cosa potrebbe essere alternativa a questa ipotesi? Potremmo avere una situazione dove l'onda 5 che noi abbiamo ipotizzato di essere terminata con i minimi del 20 di marzo invece estende ulteriormente e in quel caso vorrebbe dire che estende almeno 1,618 volte rispetto all'ampiezza di onda 1 e quindi se dovessimo scendere sotto i 20 dollari di target di punto di arrivo dell'onda 5 vorrebbe dire che c'è il rischio di arrivare fino addirittura a 10 dollari, quindi ovviamente se dovessimo impostare la strategia rialzo a partire da questi livelli, lo stop loss è da posizionare subito al di sotto dei minimi del 20 di marzo a 19,46 perché se questi dovessero venire violati ci sarebbe il rischio di vedere un'ulteriore ampia fase di discesa. Ovviamente la prospettiva di assistere a un rimbalzo da parte dell'andamento del prezzo del greggio è positiva anche per le borse, visto la forte correlazione che c'è tra questi due mercati, pertanto questo scenario che abbiamo ipotizzato sul prezzo del greggio è da ritenere positivo anche per quello che potrebbe essere il futuro andamento del mercato azionario. Ovviamente abbiamo detto che il rimbalzo potrebbe estendere fino all'area a 40 dollari, in teoria anche arrivare poco oltre quei livelli, va sempre considerato che però per il momento questo movimento per quanto esteso sarà da interpretare come una fase di correzione, quindi non è assolutamente per il momento ipotizzabile una ripresa duratura della tendenza rialzista, ma solo una ampia correzione al rialzo. Passiamo adesso all'andamento dei singoli titoli che abbiamo detto che avremmo analizzato, iniziamo con Eni che è in rialzo a 9,05, quindi siamo sopra i massimi del 25 di marzo a 8,99 circa, la prossima resistenza importante è il lato alto del gap ribassista del 9 di marzo, target di questo a 10,19 Euro, quindi c'è circa 1 Euro ancora di spazio, 1,10 Euro, prima di trovare una resistenza significativa. Successivamente i prezzi potrebbero andare oltre, se calcoliamo i ritracciamenti dai massimi di gennaio vedete il target del 50% più o meno coincide con il lato alto del gap che vi ho identificato, ma c'è poi il 61,8% a 11,27 Euro. A questo punto è importante che le quotazioni non scendano al di sotto dei minimi di ieri, toccati a 7,90 Euro per evitare che riprenda la fase negativa. Se andiamo a guardare Saipen per rimanere nello stesso contesto, vedete su Saipen si è addirittura disegnato un potenziale testa spalle rialzista, questa sarebbe la necline, la necline passa intorno ai 2,45 Euro, quindi poco oltre le quotazioni attuali, se i prezzi adesso salire oltre 2,45 Euro, avremo un bel segnale di forza, prendiamo l'ampiezza del testa spalle e la proiettiamo verso l'alto per ottenere un target che si posiziona in caso di rottura di 2,45 Euro intorno ai 3,10 Euro, quindi prima resistenza già a 2,82 Euro, dove abbiamo il gap del 9 di marzo, ma possibile anche il raggiungimento di area 3,10 Euro, se dovessimo salire oltre 2,45 Euro, quindi segnali di acquisto interessanti, invece sotto area 2,12, 2,10, verrebbe negata la figura rialzista perché le due spalle perderebbero di proporzionalità e in quel caso ci sarebbe il rischio di un ritorno sui minimi dai quali siamo partiti, ovvero sia quelli del 16 di marzo a 1,77 Euro. Cambiamo adesso tema, andiamo su Fiat Chrysler, tentativo di rimbalzo a partire dal minimo del 19 di marzo, per il momento la correzione dai massimi dello scorso anno ha interessato con i massimi del 25 marzo a 7,58 Euro, il 23,6 Euro per cento di rifiacciamento di tutta la discesa, sarà necessario il superamento di quei livelli, quindi dal 6,65 Euro da adesso il prossimo target a 7,70 Euro, se poi dovessimo salire sopra 7,70 Euro, allora la correzione potrebbe estendere, ci sarebbe la possibilità di arrivare verso i 9 Euro, ci sono quindi ancora due gradini da superare per poter parlare di una estensione a rialzo, resta il fatto che il movimento di oggi è abbastanza incoraggiante e si è sviluppato da un supporto rilevante, se andiamo a guardare infatti quello che è stato l'andamento della fase correttiva dai minimi del 19 di marzo e prendiamo il rialzo dai minimi del 19 di marzo al massimo del 25 di marzo, calcoliamo i rifiacciamenti, vedete nella seduta di ieri c'è stato il test del 61,8% di rifiacciamento con la chiusura che si è posizionata leggermente al di sopra del supporto, quindi 6,30 ha tenuto, direi che a questo punto quota 6,30 si può considerare il livello di stop loss per eventuali posizioni a rialzo che si volessero intraprendere già a partire dai prezzi attuali. Exor ha messo a segno un rimbalzo più consistente rispetto a Fiat Chrysler dai minimi di marzo, siamo arrivati al 38,2% di rifiacciamento, testato il 25 di marzo, se vedessimo i prezzi che salgono di sopra i 50 Euro ci sarebbe la possibilità di un rialzo di un altro 10% circa fino in area 55, direi che a questo punto è importante che le votazioni non scendano di sotto di area 45 per evitare che il tentativo di rimbalzo venga negato. Veniamo infine a Leonardo che ha un andamento correttivo simile ai titoli che abbiamo appena visto, in questo caso i prezzi sono fermati con i massimi delle ultime tre sedute sul 23,6%, la resistenza è per la precisione a 6 Euro e 20 centesimi circa, siamo a 6,24 questa mattina, quindi se la chiusura di seduta dovesse essere confermata oltre i 6 Euro e 20, il target si sposterebbe intorno a 7,27 dove abbiamo sia il 38,2% di tracement che il gap del 12 di marzo. Nelle ultime giornate c'è stata questa coincidenza di massimi nelle ultime tre sedute, la base di questa fase con la quale i prezzi hanno cercato di forza di resistenza era posizionata intorno ai 5,60, sotto quei livelli inizierei a abbandonare eventuali strategie d'acquisto, fino a che rimaniamo di sopra di 5,60 invece si potrebbe continuare a scommettere il rialzo con il target appunto intorno a area 7,25. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. e vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per l'attenzione.